Il gruppo storico Abbatellis Branciforti, conti di Cammarata, duchi di San Giovanni Gemini, ha partecipato per la prima volta e come unico gruppo proveniente dal territorio agrigentino a una delle rievocazioni più prestigiose e rinomate della Sicilia, ovvero il corteo storico di Carlo V a Nicosia, in provincia di Enna. L'intervista di Gaetano Ravanà alla presidente degli Abbatellis Branciforti, Irene Catarella. Siamo qui a Nicosia, il nostro gruppo Abbatellis Branciforti, conti di Cammarata e duchi di San Giovanni Gemini sta rappresentando il suo territorio qua, in questa bellissima rievocazione storica dedicata a Carlo V. Buonasera a tutti e l'applauso lo facciamo a voi, un applauso ai cittadini di Nicosia, grazie! Grazie per l'accoglienza, grazie a Bettina, sua figlia, grazie veramente. Noi tutti insieme siamo qua a sfidare per fare storia e voi ci avete accorto con un calore straordinario. Anche noi abbiamo fatto mostrare di strada perché veniamo dalla provincia di Agrigento, da un paese di montagna come il vostro, ma devo dire che il vostro paese è un gioiellino. Grazie ancora!